Buongiorno a tutti. Una domanda, c'è ancora qualcuno che sta trattenendo il fiato? No? Tutti a posto, tutti vivi, tutti bene. Ok, grazie intanto dell'opportunità, grazie a tutti gli organizzatori, è veramente un'emozione, è una grandissima gioia essere qua con voi. Exponential awareness. Perché vi ho chiesto di trattenere il fiato? Almeno ho detto ad Andrea di chiedere a voi di trattenere il fiato. Volevo che provassi a sperimentare cosa succede quando c'è una dinamica di tipo esponenziale, una metafora di questo. Per un po' di tempo non succede niente, sembra tutto normale, poi la pressione aumenta sempre di più, a un certo momento sentite il battito del cuore che accelera, a un certo punto diventa indispensabile cambiare. Dobbiamo prendere fiato, è un po' come quando succede un'innovazione che risolve un problema, magari un problema che noi stessi abbiamo creato. Ecco, questo non è lineare, all'inizio tutto normale, poi boom, una specie di esplosione come la boccata d'aria. Quindi spero che l'abbiate un po' provato sulla vostra pelle e non è facile farlo capire perché tutti i cambiamenti, tutte queste accelerazioni tecnologiche appunto sono distanti dal nostro modo abituale di pensare. Sono come delle ondate, sono come delle ondate di disruption, di cambiamento dirompente, che possono avere un effetto positivo ma che vanno anche conosciute, interpretate, possibilmente cavalcate, sorfate. Quindi può essere anche un'opportunità, sicuramente un'opportunità di evoluzione per la nostra società. Questo è un grafico dell'Economist, mi piace molto, ci fa vedere tutto quello che è stato prodotto negli ultimi 2000 anni e vedete che il 55% di tutto il prodotto degli ultimi 2000 anni è stato fatto nel XX secolo. Nei primi dieci anni del XXI secolo abbiamo prodotto il 25% di tutto quello che è stato prodotto dall'umanità negli ultimi 2000 anni. Vedete qua questa accelerazione. Questo, ne parlava a cursa e nel video, il prezzo del fotovoltaico che è andato crollando secondo una logica esponenziale, anche qui molto facilmente predicibile, il che fa sì che negli ultimi due anni e mezzo abbiamo installato i due terzi di tutto il fotovoltaico che c'è al mondo e nei prossimi due anni e mezzo raddoppieremo il totale del fotovoltaico installato al mondo. Vedete questi otto raddoppi che mancano prima di arrivare al 100%, che si stanno manifestando, proprio come Kurzweil anticipava nel febbraio del 2009 in questo video, la curva si sta realizzando proprio con una precisione impressionante. Dal 2008 il costo dell'energia rinnovabile è dimezzato, si prevede che dimezzi di nuovo nei prossimi quattro anni, andando avanti è probabile che ci sia un'ulteriore accelerazione. Questa è una storia che ho vissuto di persona, quanti di voi per alzata di mano conoscono Tesla? Wow! Ok, allora Tesla è nata nel 2003, per chi non la conosce, fino al 2007 ricerca, iniziano a sperimentare primi prototipi di auto al 100% elettriche, visito la fabbrica di Tesla con la mia classe di Singularity Universi del 2010, un capannone in cui c'erano dei prototipi, proprio assolutamente artigianale. Nel 2012 guido in centro a Milano la Tesla Roadster, 350 km con una carica di elettricità, completamente elettrica, da 0 a 100 in 3 secondi e 6. Nel 2012 Tesla compra uno stabilimento abbandonato della Toyota, Tesla è a Palo Alto, a Fremont, dall'altra parte della Baia, ci mette dentro 130 robot, non so se notate, in questa slide non c'è neanche un umano. Praticamente le Tesla sono fatte dai robot, le 3.000 persone che lavorano in Tesla sono tutti aerospace engineer, software engineer, delle qualifiche assolutamente altissime, che di solito non si trovano in industria automotive. Nel 2013 Tesla viene eletta auto dell'anno del 2013 per gli Stati Uniti, per la prima volta nella storia un'auto elettrica viene eletta miglior auto di tutta la produzione statunitense e mondiale. Nel 2013 a luglio guido la Tesla, questa è la modello S, 5 posti, 500 km di autonomia, 0 a 100 in 4 secondi e 4, e quando ti guardi intorno ti rendi conto di essere veramente in un altro pianeta. Quindi questo sta venendo avanti molto rapidamente. E cosa vuol dire capire o non capire questi tsunami, queste ondate dirompenti? Gennaio 18 2013, Marchionne stronca l'auto elettrica a fare da masochisti. Maggio 10 2013, la quotazione in borsa di Tesla, che fa 23.000 auto all'anno, supera la quotazione in borsa di tutto il gruppo Fiat. Gruppo Fiat, 8 miliardi di dollar di quotazione, oggi Tesla vale intorno ai 20 miliardi sul mercato. Questo è l'andamento in borsa delle azioni di Tesla. Il prossimo passo quale può essere? Chi di voi, anche qui vi vedo molto informati, preparati, ha sentito parlare della auto robotizzata, l'auto autonoma di Google, per alzata di mano. Questa foto me l'ha mandata proprio ieri sera, il mio socio amico Paolo Di Cesare, si trova a Singularity University, sta facendo un corso executive, era seduto sulla auto robotica di Google, e io gli ho chiesto su WhatsApp, ma perché sei seduto al posto di guida? Perché l'auto robotica fa questa cosa qua. Ok, le auto robotiche hanno guidato già più di un milione di chilometri sulle strade degli Stati Uniti, ci sono degli stati come il Nevada, dove la legge consente alle auto senza pilota di girare autonomamente. E qui la domanda, oggi costa un botto quanto ci vorrà prima che arrivi sul mercato? Anche qui dinamiche esponenziali, e ritorno a Tesla, qualche giorno fa Tesla annuncia che entro il 2016 metterà sul mercato un'auto che si guida da sola per il 90% del tempo. Visto il track record di Tesla, io credo che questo accadrà, staremo a vedere. In tutti i settori troviamo lo stesso tipo di dinamiche, materiali, capacità di simulazione, tecnologie, anche la capacità collaborativa, progettuale. La massima velocità in America's Cup del 2010 corrisponde alla minima velocità in America's Cup del 2013. 2010 massimo 13 nodi, oggi si superano i 42 nodi, sono 80 all'ora sull'acqua. provate a pensare cosa vuol dire. Questo, già Kurzweil parlava di computer, fino a pochi mesi fa era il computer più potente al mondo, in Cray Titan, in realtà ce n'è uno cinese oggi ancora più potente, e se avesse avuto lo stesso grado di efficienza di un computer di 30 anni fa, avrebbe dovuto essere grande come le due piramidi di Giza. Quindi vedete, quello che diceva Kurzweil, veramente si sta realizzando, veramente si sta materializzando. Pensate a proiettare in avanti ancora qualche anno questa dinamica, che tipo di potenzialità ci sono. Questa è un'altra slide che ci ha fatto vedere Kurzweil, lui in realtà non si è soffermato nel dirci che oggi con mille dollari si compra la capacità di calcolo di circa un centimetro cubo di cervello, che è più o meno il centimetro cubo del cervello di un topo. Entro il 2025, mantenendo la stessa progressione di potenzialità, di capacità, price performance delle macchine, con mille dollari si comprerà la capacità di calcolo di un cervello, di un essere umano, circa 1300 centimetri cubi di cervello, e mantenendo la stessa progressione, almeno in teoria, entro il 2045 con mille dollari si comprerà la capacità di calcolo di tutti i cervelli di tutto il genere umano, che allora sarà intorno ai 10 miliardi di cervelli. Cosa significa questo? Non lo sa nessuno, e questo proprio tecnicamente significa singularity, e anche in matematica, in fisica, è un punto oltre al quale diventa difficile, impossibile fare ogni previsione. Quindi, veramente dobbiamo tenere gli occhi aperti e cercare di capire queste ondate, questi tsunami, queste trasformazioni, che implicazioni hanno, che tipo di comportamenti dobbiamo avere, che tipo di informazioni, che tipo di collaborazione dobbiamo avere tra noi, come connettere tra loro diversi sviluppi. Come dicevamo già nel video precedente, questo riguarda moltissimi ambiti di attività, dal biotech, artificial intelligence, nanotech, ma poi gli impatti sono in medicina, neuroscience, digital manufacturing, energy, diciamo i campi di applicazione sono assolutamente ovunque. E quindi, are you aware? Ci rendiamo conto? Io spero che oggi possiate cominciare ad approfondire questa attenzione, ad alzare la soglia di attenzione su questi temi. La Singularity University si fa questo da cinque anni, in realtà non siamo pochissimi italiani, l'Italia è il terzo paese col più alto numero di ex studenti di Singularity, siamo circa una quarantina, siamo secondi solo agli Stati Uniti e Israele, quindi anche questo è un fatto curioso. Interesting people, Grand Challenges è l'uso della tecnologia per risolvere o affrontare queste grandi sfide che ci troviamo di fronte. Singularity è un posto particolare dove ti può capitare di prendere un aperitivo con questo signore che è Larry Page, fondatore di Google, o dove puoi avere compagni di classe che costruiscono una rete di droni per trasportare medicinali dove non ci sono infrastrutture come in Africa, questo è Andrea Stratopoulos che appunto sta realizzando questo progetto e uno dice ma costa tanto portare le merci con i droni, sempre secondo una logica esponenziale entro una decina d'anni portare merci con i droni costerà meno che portarle con un motorino, quindi pensate alle potenzialità, ci servono ancora tutte queste strade. Questi sono altri miei compagni di classe, Jason Dunn che sta realizzando una stampante per stampare nello spazio dei pezzi di ricambio per l'International Space Station andrà in orbita l'anno prossimo. Questo è un altro Andras Forecast che ha sviluppato una tecnologia per produrre carne in vitro, quindi avere proteine animali senza usare tutta la filiera di macellazione e allevamento con gli impatti enormi che ha dal punto di vista ecologico. Anche questo oggi è ancora un po' costoso ma nel giro di poco tempo sarà commerciabile. Quindi con Accelera nata poco più di un anno fa vogliamo semplicemente aggregare le persone che sono interessate a questi temi e vedere insieme se riusciamo a fare sviluppare questa consapevolezza o sviluppare dei progetti insieme quindi conferenze seminari workshop presentazioni come questa e già da tre anni abbiamo lanciato oggi il terzo anno e ufficialmente lanziamo questo concorso per selezionare un italiano che vincerà una borsa di studio da 30.000 dollari per frequentare come ho fatto io o altri italiani Singularity University durante l'estate 2014 Samantha Cristoforetti un'altra astronauta l'anno scorso ci ha dato una mano a promuovere questo concorso e quest'anno sarà madrina quindi tra un attimo la vedremo in video e quindi di nuovo vi do il benvenuto vi ringrazio per essere qui e credo che sarà una giornata fenomenale ho parlato con alcuni dei relatori che ascolteremo oggi e credo che sia veramente una fantastica opportunità per cominciare a sviluppare questo tipo di attenzione di sensibilità di consapevolezza sul significato dell'esponenzialità chiudo con questo video che si esprime da sé è il lancio del concorso del 2013 del 2014 lanciato da Xterra viviamo in un'epoca caratterizzata da un'accelerazione tecnologica senza precedenti trend tecnologici culturali ambientali di politiche si intrecciano e si combinano per creare scenari di grande complessità pieni di sfide e di opportunità tutto questo si traduce nell'aumento esponenziale di conoscenze e di potenzialità umane in questo contesto nasce Xcelera vogliamo chiarire il significato dell'accelerazione tecnologica che stiamo vivendo vogliamo diffondere modi di pensare radicalmente nuovi in modo di passare da un pensiero lineare a uno esponenziale ogni anno lanciamo la Global Impact Competition Italia per una borsa di studio per la Singularity University di base qui al NASA Ames Research Park in Silicon Valley Xcelera è aperta a tutti coloro che vogliono tradurre in impegno concreto il senso morale e civile di progettare un'Italia migliore per tutti di progettare Hi my name is Samantha Cristoforetti and I'm an astronaut with the European Space Agency How did I get started on this amazing journey? I have dreamed all my life of becoming an astronaut and when I learned that the European Space Agency was selecting new astronauts I immediately jumped on the opportunity to try and fulfill my dream Now I bet that you have a dream too and if your dream is to make a positive difference in the life of people and if you have a vision of how to use technology and innovation to make that positive change happen then here is your opportunity to get started Your time at Singularity University will help you will help you grow as a young leader as an innovator as a potential entrepreneur and you will learn how to pursue your vision of bringing about positive change on our little spaceship earth Applying is quick and easy Go for it Go for it Quindi qua in sala c'è anche Caterina Falleni Executive Director di Accelera che ha vinto il concorso lo scorso anno vi invito a parlare con lei e farvi raccontare e vi invito anche a partecipare a questo concorso e a spargere il più possibile la voce quindi grazie Go for it Applausi Applausi Grazie 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 a tutti.